Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Spacciava l'ingresso dell'ospedale San Salvatore arrestato un 46enne pesarese Ragaggio del porto di Fano rimossi 3000 metri cubi di fanghi all'imbocatura del porto Passa il Giro d'Italia modifiche e disagi alla viabilità garantiti i trasporti agli studenti Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia i carabinieri di Pesaro hanno arrestato un 46enne del posto perché spacciava diversi tipi di droga nel parcheggio antistante all'ospedale San Salvatore di Pesaro Vediamo il servizio Cocaina, hashish ed eroina erano le droghe che un 46enne pesarese spacciava all'ingresso del parcheggio dell'ospedale San Salvatore a Muraglia Così i carabinieri dopo averlo osservato e pedinato da diverso tempo lo hanno arrestato in flagranza di reato L'uomo, venerdì scorso, è stato sorpreso mentre cedeva ad una coppia di trentenni del posto un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina La successiva perquisizione nella sua abitazione ha consentito di rinvenire invece ulteriori 6 grammi di cocaina 4 di hashish e 13 di eroina ma anche sostanze da taglio, materiale e strumenti idonei al confezionamento in dosi della droga I due acquirenti sono stati segnalati all'autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti e per uso personale non terapeutico mentre il 46enne, già noto alle forze dell'ordine è finito in manette condotto nel carcere di Villa Fastigi dove rimarrà in custodia cautelare Questa mattina infatti è avvenuta l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Pesalo che lo ritiene responsabile di cessione aggravata e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di vario genere E proseguiamo con la cronaca perché la polizia di Urbino ha fermato un cittadino rumeno di 47 anni con precedenti penali per furto che circolava nonostante avesse il veicolo gravato da un procedimento di fermo fiscale L'uomo è stato sanzionato con una multa di 800 euro mentre il veicolo è stato segnalato ai competenti uffici per il pignoramento A Urbania invece un cittadino macedone di 24 anni residente in zona è stato fermato mentre era alla guida di un'auto perché durante la marcia utilizzava il telefono cellulare Al successivo controllo dei documenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e il 24enne è stato multato con una pesante sanzione amministrativa Sanzionato anche il proprietario del veicolo il padre del giovane per l'incauto affidamento dell'auto al figlio E continuiamo sempre con la crona che è stato denunciato invece alla procura della Repubblica un poliziotto di mezza età da tempo in servizio negli uffici della questura di Pesaro l'uomo di cui non è stato reso noto il nome ha aperto la cassaforte all'interno della squadra mobile e ha preso una parte del quantitativo di cocaina che vi era custudito è stato così scoperto dagli altri agenti di polizia che avendo dei sospetti sul collega hanno seguito le sue mosse per poi intervenire in flagranza di reato per questo motivo il magistrato di turno ha aperto un fascicolo per furto aggravato il poliziotto è stato sospeso dal servizio in via cautelare ma la sospensione potrà durare al massimo 5 anni trascorsi i quali potrà tornare al lavoro l'eventuale licenziamento invece potrebbe scattare d'ufficio se condannato in tribunale o in base all'esito del procedimento disciplinare e ora cambiamo argomento come annunciato sono iniziati oggi i lavori del dragaggio all'interno del porto di Fano lavori che proseguiranno anche nei prossimi giorni per rimuovere circa 3.000 metri cubi di fanghi vediamo il servizio di Simona Zonghetti è una piccola risposta ma concreta ai problemi di navigabilità all'imbocatura del porto abbiamo cercato di fare un lavoro strutturale mediante un progetto che guardi lontano è soddisfatto il sindaco di Fano Massimo Seri sia per il lavoro che è stato programmato sia per le risorse ottenute dalla regione Marche e come annunciato tempo fa sono iniziate questa mattina le operazioni necessarie alla rimozione dei fanghi di categoria A che saranno smaltiti in discarica il costo dei lavori è di circa 60.000 euro si tratta di un dragaggio tampone spiega il sindaco infatti sarà sufficiente per garantire il passaggio delle barche almeno fino alla fine della prossima estate quando verrà effettuato un altro intervento più risolutivo stiamo lavorando con l'autorità portuale con la regione e con il CNR che dovrà fare ulteriori esami per sversare e fare l'altro dragaggio importante di altri 25-30.000 metri cubi a fine estate quindi pensiamo a fine settembre e primi di ottobre e questa è una risposta importante gli operatori del porto si aspettavano nello stesso tempo stiamo lavorando sulla cassa di colmata perché i 25-30.000 metri cubi saranno sversati in mare salvo complicazioni ulteriori che speriamo che non ce ne siano poi proseguiremo con il lavoro della cassa di colmata dove la nostra intenzione è portare i fanghi stoccati sia a torrette che qui al porto e portare quelli di categoria B in cassa di colmata e qui potremmo dare una risposta anche a quelle d'Arsen dove il dragaggio non si è mai fatto ovviamente per quello che riguarda il dragaggio fino completo, fino a ottobre abbiamo le risorse sufficienti per l'altro ne abbiamo ma penso che dovremo lavorare per trovare ulteriori integrazioni però penso che questa sia una risposta intelligente e strutturale che guarda lontano e non guarda soltanto all'immediato perché la cosa che va evitata è inseguire soltanto l'emergenza rischiamo di sperdere le risorse e non faremo l'interesse della gente le operazioni di dragaggio non sono però terminate nella giornata di oggi ma saranno necessarie altre ore di intervento proseguiranno altri due o tre giorni dove vi concentrerete? cerchiamo di fare un canale almeno sui tre metri al centro canale entrata e uscita del porto ogni volta giustamente ci sono anche dei camion che portano via questi fanghi ad esempio qua quanti ne contengono? qua sono all'incirca 200 metri cubi a viaggio in totale 2000 ne dovrete rimuovere? sui 3005 il primo cittadino Massimo Seri sta costruendo passo dopo passo il percorso per il dragaggio definitivo del porto di Fano che gli operatori del settore stanno attendendo da quasi 20 anni la categoria può tirare un sospiro di sollievo o ancora le problematiche sono diverse? no, no, finché non riusciamo a dragare le darsene dove le barche vengono messe a riposo avremo grossi problemi anche perché abbiamo visto che le barche appoggiano sul fango non hanno più pescaggio i sistemi di raffreddamento non funzionano più perché vengono occlusi dal fango c'è il rischio di fondere i motori ci sono problemi con le eliche ci sono parecchi problemi anche se siamo in un contesto particolare oggi partono questi lavori seppur piccoli auspichiamo che entro l'anno partano i lavori di dragaggio più corposo del porto delle altre darsene e nel contempo nel mese di giugno avvieranno i cantieri anche Marina Group quindi il porto diventa al centro della città sta diventando un fenomeno della città perché molte iniziative verranno messe in campo è grande successo di pubblico ieri mattina in centro a Fano per la presenza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e Daniele Pesco accompagnati da Gianni Maggi e dai candidati consiglieri della provincia di Pesero e Urbino durante l'incontro sono stati affrontati diversi argomenti come la sanità la gestione del bilancio statale e regionale il reddito di cittadinanza l'immigrazione la scuola e altri ancora come soluzioni i grillini hanno un denominatore comune lotta alle mafie e alla corruzione i migranti ospitati a Pesero che hanno chiesto la protezione internazionale potranno svolgere attività di volontariato un accordo di intesa in questo senso è stato firmato oggi in prefettura a Pesero ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci è il primo comune delle Marche ad aver aderito all'accordo e ci sono due modi sbagliati ha detto di gestire il fenomeno epocale e drammatico come questo la propaganda della Lega Nord senza soluzioni e l'estremismo buonista che non vede le tensioni sociali e ora andiamo a Cartoceto perché insieme all'Unione dei Comuni Valli del Metauro ha aderito a un progetto sulla donazione degli organi a breve sarà infatti possibile a consentire alla donazione degli organi recandosi negli uffici dei servizi demografici sentiamo la dichiarazione è un gesto molto particolare ma al momento dell'attuazione sarà un gesto molto semplice consiste nell'assenso oppure nel non aderire diciamo alla donazione degli organi attraverso la carta d'identità che cosa significa? che il cittadino nel momento in cui dovrà rinnovare la propria carta d'identità oppure farla in ex novo cioè per la prima volta potrà dare il suo assenso dicendo sì sono disponibile a questo gesto mentre quando capita attraverso l'associazione dell'Aido sono i familiari che aderiscono a questa possibilità adesso si può fare in maniera del tutto personale questo da quando? sicuramente necessita un po' di tempo prima per aggiornare i software? esatto i nostri uffici si stanno adoperando e per questo adattamento non mi sento di spendere una data ma credo in tempi brevi ci sarà anche un'altra possibilità credo nel senso che se un cittadino dovrà rinnovare la propria carta d'identità non nell'immediato ma per dire da qui a dieci anni noi potremo dare la possibilità di far sì che può venire anche prima a dare il suo assenso e domani passerà il Giro d'Italia a Fano la decima tappa del 98esimo Giro d'Italia di ciclismo diversi tratti saranno quindi chiusi al traffico vediamo quali nel servizio disagi alla viabilità lungo la dorsale adriatica e vie limitrofe si potranno verificare domani martedì 19 maggio a causa del passaggio della decima tappa del 98esimo Giro d'Italia di ciclismo dopo la giornata di riposo di oggi per il trasferimento a Civitanova Marche la Corsa Rosa attraverserà la nostra regione e arriverà in Emilia Romagna con la tappa di 200 km Civitanova Marche Forlì le località coinvolte nella provincia sono Marotta Fano Pesaro Monte San Bartolo Fiorenzuola Di Focara Castelli Mezzo e Gabicce Mare per quanto riguarda Fano invece le strade coinvolte sono la strada statale 16 Adriatica Sud Viale Piceno Via Pisacane Viale 12 Settembre Viale Gramsci Viale Buozzi Viale Primo Maggio Viale Romagna e la strada statale 16 Adriatica Nord queste in base ad un'ordinanza della prefettura rimarranno chiuse temporaneamente al traffico dalle 12.20 circa in poi è previsto inoltre il passaggio della carovana pubblicitaria che farà una sosta ufficiale a partire dalle 12.45 in zona Pincio davanti all'Arco d'Augusto in quell'occasione gli organizzatori del Giro d'Italia consegneranno l'immagine del Lupo Wolfi mascotte ufficiale all'assessore allo sport Caterina Delbianco al fine di sancire un simbolico gemellaggio tra la Corsa Rosa e la città di Fano il passaggio dei corridoni invece è previsto a Marotta intorno alle 14.22 mentre in Viale Gramsci alle 14.40 circa l'ufficio alla mobilità urbana consiglia quindi ai fruttori del centro di parcheggiare nelle aree di sosta limitrofe come nel parcheggio in via Giustizia quello in via Roma e via Kennedy nel parcheggio in via Indipendenza al Foro Boario o in quello dell'ex caserma Paolini verrà infatti inserito il senso di marcia in via Negusanti e in via Palazzi per permettere ai veicoli di uscire e raggiungere l'autostrada da via Roma per quanto riguarda gli autobus invece dall'Adrebus hanno comunicato che non ci saranno problemi di alcun tipo e che quindi verranno garantiti tutti i servizi comprese le corse negli orari di uscita dalle scuole Parliamo della Grande Guerra nell'ambito del progetto nazionale 15-18 gli italiani in trincea Casa Pound ha riqualificato ieri mattina il monumento dedicato ai cauduti della Grande Guerra nel parcheggio dell'ex caserma Paolini i militanti hanno eliminato le erbacce dal terreno circostante e ripulito la piastra che riporta i bollettini di guerra della Brigata Messina lo abbiamo fatto ha detto il responsabile provinciale Cristiano De Montis sia per il rispetto ai nostri caduti sia come denuncia per lo stato di abbandono dell'opera della struttura intera ci chiediamo a proseguito se nel comune di Fano chi si debba occupare della memoria collettiva abbia solo una visione faziosa di essa circa 300 persone hanno partecipato ieri all'evento camminando con Don Orione la prima marcia podistica amatoriale per l'andica pideata per festeggiare i 100 anni di fondazione delle piccole suore missionarie della carità il ricavato dell'iniziativa è stato devoluto a Casa Serena una residenza che accoglie a Fano ragazzi e donne in stato di disabilità chiudiamo con la cultura la quarta edizione della rassegna con le parole giuste invece si conclude con una mostra di cartoline realizzata dagli studenti degli istituti Olivetti e Seneca di Fano vediamo Dalle parole alle immagini è stata inaugurata ieri la mostra di cartoline realizzate dagli studenti dell'istituto professionale Adriano Olivetti e dell'istituto tecnico di grafica e comunicazione Federico Seneca di Fano una mostra che chiude la quarta edizione della rassegna con le parole giuste le parole della giustizia nella filosofia nella letteratura nella società abbiamo lasciato ai ragazzi la possibilità di interpretare di leggere di approfondire questi temi con un'espressione grafica anche molto diversa sotto l'aspetto tecnico che però potesse poi dare l'immagine dare il senso dare il significato alle parole che andavamo ad approfondire negli incontri per cui siamo molto molto soddisfatti di questa modalità di collaborazione e ci sembrava corretto ma lo facciamo con grandissimo piacere ospitare tutto il lavoro che è stato svolto al di là di quello che poi abbiamo utilizzato nella comunicazione istituzionale allestita nei locali della memo raccoglie gli elaborati grafici realizzati dagli studenti del polo scolastico 3 per l'ultima edizione della rassegna dedicata alla riflessione su alcune parole chiave che in ambito giudiziario hanno un significato ma che in altri settori assumono un senso e peso diversi la mia cartolina la mia cartolina a differenza delle altre in mostra che sono realizzate principalmente con fotografie o comunque impaginazioni con programmi che utilizziamo a scuola la mia è un'illustrazione ovvero un disegno a mano realizzato da una mia compagna di classe in quanto ecco non ho tutte queste doti nel disegno a mano e comunque l'idea è nata da me ho appunto posto al centro dell'illustrazione ciò che secondo me rappresenta meglio la cura con le parole appunto un elettroencefalogramma diciamo così arricchito da quello che può essere un libro appunto secondo me questa è la migliore interpretazione della cura con le parole dopo le prime due cartoline realizzate come gli anni precedenti da Maurizio Minoggio autore del logo della rassegna gli alunni hanno portato avanti il lavoro grafico a coordinarli il professore Gianluca Proietti una mano per la parola cura sì questa è l'interpretazione che ho voluto dare a questo progetto è l'interpretazione della parola proprio cura che quando si dice prendersi cura di qualcun altro aiutarlo proprio a rialzarsi soddisfatto del successo ottenuto dalla rassegna anche Samuele Mascarin assessore alle biblioteche e alla legalità democratica del comune di Fano che ha ricordato il prezioso contributo dell'associazione nazionale magistrati Marche tanti gli studenti gli insegnanti e i cittadini coinvolti ha commentato per continuare a trasmettere messaggi importanti con le parole giuste la parola che mi ha ispirato è stato vittime e rappresenta le vittime della guerra e anche le vittime sociali le vittime in generale ho voluto mettere questa ombra sagoma sopra questi proiettili per far capire per far capire che le vittime non hanno né età né etnia né genere la mostra sarà visitabile fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della MIMO in questo caso invece la parola scelta è memoria si è memoria la memoria della Shoah degli Ebrei è avvenuta durante la seconda guerra mondiale e ho deciso di rappresentarla con una camicia appunto tipica dei prigionieri dei campi di concentramento facendo risaltare la stella di Davide con il colore giallo ebbene complimenti all'estro creativo di questi ragazzi con quest'ultima notizia si chiude qui questa edizione di Occhio alla Notizia grazie per essere stati in nostra compagnia noi torneremo qui naturalmente se vorrete domani sera alle 20 e 30 buona serata a tutti voi grazie